per finire raccomando ai miei posteri se ne saranno in sede letteraria il che resta improbabile di fare un bel falò di tutto che riguardi la mia vita i miei fatti i miei non fatti non sono leopardi lascio poco da ardere ed è già troppo vivere in percentuale vissi al cinque per cento non aumentate la dose troppo spesso invece piove sul bagnato